Regione Toscana, il Consiglio regionale. Regione Toscana, il Consiglio regionale. C'è stata una forte condanna da parte di tutti i gruppi del Consiglio regionale e noi nella nostra carrellata di interviste andiamo ad ascoltare i singoli portavoce dei gruppi su questa vicenda. Io spero che il Consiglio regionale si possa discutere. Si discute solo ad una condizione, per l'ordine dei lavori, che ci sia l'unanimità di tutte le forze politiche. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi da parte dei Novax e delle forze neofasciste che ci sono in questo Paese sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo. E io credo che il Governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente. Io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al Governo e al Parlamento. Siamo d'accordo, tant'è vero che come Partito Democratico abbiamo presentato anche una mozione che speriamo trovi anche una vasta convergenza, che condanna i fatti inquietanti, veramente preoccupanti, che sono avvenuti a Roma sabato scorso. Bene hanno fatto i sindacati a indire per il prossimo sabato invece una manifestazione per riaffermare la democrazia, per riaffermare la validità della nostra Costituzione. Noi in questa mozione chiediamo al Governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno alla apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno, ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè della nostra legislazione, della nostra Costituzione, non può far parte insomma di quello che è il nostro vivercivile. Tutto quello che si rifà al fascismo ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Intanto ferma, condanna nei confronti tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica, questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di forza nuova, ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale, proporremo degli emendamenti prima di votarla, ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio, perché la violenza non ha colore politico, cioè ce l'ha, ma ce l'ha spesso in più sfaccettature, in più colore a seconda delle situazioni. Quindi è bene quando si condanna condannare tutto e tutti quanti. Chiaro, noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla CGL perché quello che è avvenuto è assolutamente inaccettabile a fronte di tante persone che invece erano a manifestare in maniera pacifica e legittima e quelle invece vanno difese e tutelate perché il diritto di manifestare deve essere mantenuto sempre, in maniera però pacifica. Noi chiederemo proprio di porre anche una condanna e di sciogliere i centri sociali, perché non è che fanno meno danni quando ci sono le manifestazioni rispetto a quello che abbiamo visto durante la CGL. Quindi la valutiamo come un'opportunità per poter dialogare e per poter mettere fine in toto a tutto quello che vediamo, alle vetrine spaccate, ai disastri fatti nelle sedi, proprio da parte di tutti quanti. Perché visto che c'è un'occasione, si apre uno spiraglio da parte della maggioranza, crediamo che sia giusto trovare una soluzione che coinvolga tutte le casistiche che sono successe negli anni. Visto che la maggioranza la vuole portare, pensiamo che sia un'opportunità da sfruttare. Vediamo se la accetteranno. Quanto è successo a Roma è ulteriormente un fatto ancora più grave, ma questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretta la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali e poi queste cose possono congiungersi. Quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie, molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti. Quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta, non può avere due facce e due volte, un giorno sì, un giorno no. Sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. Intanto vediamo che tipo di mozione arriverà arriverà ed esprimiamo solidarietà ai fatti gravissimi, ai fatti intimidatori che sono avvenuti al segretario di un sindacato importante, come esprimiamo solidarietà sempre a tutti gli esponenti politici, giornalisti, magistrati, membri della società civile che quotidianamente ricevono intimidazioni. Speriamo che il Governo e il Parlamento le cifre il più presto possibile su tutti gli haters che ci sono, quei fantastici leoni da tastiera che sui social aggrediscono, infamano quotidianamente tutti. Vediamo che tipo di mozione arriverà. Noi però non abbiamo dubbi, sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto, a condannare ogni tipo di violenza, come per esempio l'aggressione alla sede del sindacato che è successa a Roma. Però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo Paese non può essere scritta soltanto da una mano, che in questo Paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati, che il Presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato attaccato, infamato, addirittura gli è stata gettata una statuetta addosso mandandola all'ospedale e gli attestati di solidarietà dalle farze politiche non sono sempre arrivati. Ecco perché noi fermi nella nostra storia diamo solidarietà alle persone ma anche vogliamo che sia fatta chiarezza in questo Paese su quello che è successo. Ho presentato personalmente la sera stessa la mia solidarietà alla direzione provinciale di Pisa e per esteso quindi a tutta la CGL toscana e nazionale la mia solidarietà per l'atto vergognoso di cui si sono trovati oggetto. E condanno questo due volte perché innanzitutto è stata colpita la sede di un sindacato del quale, di qualunque opinione se ne abbia resta sempre comunque sia un simbolo dei lavoratori. Quindi istituzionalmente è stato un gesto squadrista come ha detto lo stesso Segretario Landini vergognoso e molto pericoloso su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi fascinorosi di chiara matrice di destra cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati ai vertici dei loro partiti hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea magari non condivisa da me o da altre persone ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso. Quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio. Quindi è bene che le istituzioni e soprattutto gli organi inquirenti approfondiscano cos'è accaduto e condannino fermamente tutti i responsabili perché non diventino poi seme di altri eventi di questo tipo. Stoppa la violenza e tutti noi dobbiamo farci carico di portare distensione anche nel nostro operato e nel nostro modo di fare politica. Allora intanto approfitto del tema per esprimere, l'abbiamo già fatto ma lo rifacciamo sempre volentieri la più assoluta solidarietà alla CGL di Roma ma anche a tutte quelle forze sindacali e sociali che anche in queste ore ricevono minacce da movimenti di matrice differente ma accomunati dall'idiozia evidentemente. Sulla mozione a noi va benissimo discuterla credo sia un tema da sottoporre assolutamente alla politica. È un po' surreale il fatto che la politica e non credo sia nemmeno legittimo più di tanto che la politica disponga lo scioglimento di una forza politica cioè ci sono strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo e mi auguro perché le violenze vanno sempre condannate e combattute mi auguro che chi è competente agisca in questa direzione e provveda a sciogliere tutte quelle forze politiche Forza Nuova se ha commesso dei reati come quelli di Roma da settimana scorsa senza comprare dubbio ma tutte quelle forze politiche di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto che fanno della sopraffazione della violenza, dell'impedimento fisico all'avversario di esprimere la propria opinione la propria bandiera, la propria azione politica chi si pone fuori dalla legalità deve essere sciolto lo devono fare gli organismi competenti la politica lo può segnalare bene se oggi segnala lo scioglimento di Forza Nuova altrettanto vigore altrettanto deve essere netta la condanna quando a compiere azioni simili a quelle sono altri movimenti Il Consiglio regionale della Toscana tra i temi all'ordine del giorno ha discusso sulle aree interne in particolare sui vantaggi di fiscalità per aree leader una risoluzione è stata approvata e per attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare opportunità di lavoro soprattutto ai giovani nelle aree montane e nelle aree rurali è un atto importante le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori molte volte periferici non solo montani ma anche collinari ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività c'è un atto ed è evidente dai dati che abbiamo in mano di spopolamento oggettivo delle periferie urbane non di quelle collegate alle città ma delle realtà rurali che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono diciamo incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori andandoci a vivere quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi se non ci sarà questa inversione di tendenza è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità quindi siamo a favore di questa misura è sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi di beni di prima necessità che da sempre diciamo hanno le aree interne ma non solo anche le isole hanno e la commissione aree interne proprio cerca di mettere il focus su questo come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la commissione Costa perché si può dire che la Toscana è ovunque bella un slogan coniato nella precedente legislatura ma deve essere anche ovunque vivibile perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione ma devono essere messi in condizione di farlo questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura una strada mancante o disagevole oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale anche ad esempio per la pediatria che scoraggia spesso molte famiglie ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra ma anche molte altre Pitigliano, San Marcello, Pistoiese proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B e questo vale per tutti La montagna ha partorito il topolino nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne io penso che un organo legislativo qual è il Consiglio regionale avrebbe potuto fare molto di più soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale il bollo auto il bollo per i mezzi di trasporto se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta invece così si è invitato a qualche di un altro a fare qualche cos'altro è il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo sicuramente è la strada giusta sicuramente la regione può intervenire direttamente per anche agevolare la pressione abbassare la pressione fiscale sulle imprese su coloro che continuano a fare attività nell'area interna con iniziative proprie non chiedendo di fare agli altri il percorso è stato diciamo affrontato da tutti i commissari siamo arrivati a questa proposta unanime votata in consiglio regionale da tutte le forze politiche gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone nelle aree interne aree insulari nei comuni di montagna perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte parlo di bar ristoranti attività produttive attività artigianali in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere lavorare studiare a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio regione toscana il consiglio regionale e in genere di vantaggio in tutti i nostri in la prospettiamo e in la prospettiamo in un'altra